Grazie a tutti. La gara di oggi dove il Foggia ha vinto spesso con sprazzi di bel gioco o di spettacolo. Una vittoria importante, lei non guarda la classifica ma questa vittoria fino alla mattina della domenica in Alvis terrà il Foggia al quarto posto. Poi l'avversario si chiama Catanzaro e non sappiamo. In Alvis è la domenica dopo Pasqua, la domenica dell'ottava di Pasqua, la domenica in Alvis. Ho fatto il geometra, non l'ho fatto. Il latino non lo so. E comunque, quarto posto, almeno per otto giorni siamo quarti. Grazie. Io devo dire che ero curioso di vedere questa gara dopo praticamente una settimana di lavoro. perché l'altra, al di là di qualche indicazione, qualche situazione, c'entravo poco in quell'altra partita. E quindi, l'ho detto, mi sembra ieri, abbiamo parlato ieri e avevo detto che c'ho bisogno della partita per vedere la fotografia, dove eventualmente andare a mettere le mani. Devo dire che, come l'ho detto già in sede di presentazione, che questi ragazzi hanno avuto la sensazione, no, la verità, che sono messi a disposizione. Abbiamo fatto qualcosa e qualcosa si è visto di meglio. E sono contento per loro che abbiamo vinto. Fermo restando, che c'è tanto, tanto da lavorare. Di questo sono convinto. Però è meglio lavorare se vinci che lavorare se perdi. So che può essere una cosa alla catalana, ma è la verità. E soprattutto io ho bisogno, magari anche di fare qualche risultato, perché è quello che propongo, quindi significa che loro, se facciamo così, forse ci credono di più. Il primo tempo eravamo un po' troppo larghi. Questo ci faceva sì che spesso e volentieri trovavano spazi a metà campo e giocavamo poco nella metà campo, perché si allargavano troppo i centrocampisti, erano già avanti e abbiamo lasciato molte volte un buco centrale. Però ci sta, però vi sto voglia di fare. E questo per me è gratificante. Però dobbiamo migliorare molto, sotto tutti i punti di vista. Però è un buon viatico, ecco tutto. Mister Buonasera, Emanuele Lo Sappio, Gazzetta dello Sport. Le chiedo un commento, agli applausi, no? Quando lei è uscito dal... Prima della partita. Sì, ma io ho pagati questi, uh. No, no, no. Ancora pensi che erano stati spontanei. Lei ha detto ieri in conferenza, sarò emozionato fino al fischio d'inizio, perché per me è un esordio particolare, è una partita particolare, perché è la prima in casa, l'ho zaccheria. Io mi sono emozionato anche alla fine. Infatti sono andato dentro, non mi ha visto nessuno, però mi sono emozionato anche alla fine. La maggior parte di questi, li ho visti con i pantaloccini, il costume, li ho visti al mare, la maggior parte. E quindi vederli vestiti non li riconosco molti, perché li conosco quasi tutti, sotto questo punto di vista. E' chiaro che adesso mi vedono sotto un'altra veste. Io sono contento, sono contento che dall'accoglienza, sono contento soprattutto delle aspettative, che so che sono tante. Poi io non giro la città, non telefono neanche gli amici, ho avuto 500 inviti a cena, però già sono sovrappeso, se vado anche a cena non va bene. Ecco, il discorso è questo, che io non devo dormire per stare bene gli altri, e continuerò a fare così. C'è questa aspettativa, e spero sempre di non deludirli, perché quando c'è le aspettative che sono molto alte, c'è il rischio anche che tu possa deludirli. Però da parte mia, l'ho detto, io ce la metterò tutta, quel che è umanamente possibile, farò per questi colori, già il fatto che sia qui, penso che sia quello che penso, anche perché l'ho detto. Non è che sono tornato a Foggia, perché devo usare il Foggia, per andare da un'altra parte. Io ormai la mia carriera l'ho fatta, all'Inter e in Milano e alla Juve non mi chiamano più. Quindi penso di continuare a rimanere qua. Mister, sempre tornando alla partita, lei è uomo di calcio, ha tanti anni nel calcio, ci sono degli episodi, è successo a Messina sullo 0-0, è successo oggi sull'1-0, che hanno preso la traversa, è successo a Messina sullo 0-0, occasionissima. A Messina non me la ricordo. e hanno tirato fuori, sopra la traversa, occasionissima sullo 0-0. Fofana, sopra la traversa. Hanno preso la traversa? No, 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 no. Però era un'occasione, contavo le occasioni. No, che hanno preso la traversa. Siccome comincia a perdere qualche colpo, però non mi ricordavo la traversa del Messina. No, 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 però occasioni contavo. Sì. Il Foggia anche da questo punto di vista, ha recuperato un po' di buona sorte, anche perché nel calcio conta, anche quando, soprattutto nei momenti dove sta vincendo, dove può vincere, dove poteva complicarsi le cose, c'è stata anche un po' di buona sorte. Ma la legge... Ecco. Ma se le cose andavano bene e non c'era qualche problema, molto probabilmente ci stava un altro al posto mio, molto probabilmente c'era qualche problema, se no non è che mi chiamavano me o il terzo allenatore, significa che c'era... E sicuramente per questo dico dobbiamo lavorare. Però se pensiamo di avere una squadra che vincerà tutte le partite 3-0 e non concederà mai niente, secondo me, forse dobbiamo vedere la televisione e non venire allo stadio, almeno a Foggia, sotto questo punto di vista. È chiaro che cercheremo di limitare gli errori. Però questo io lo posso fare, l'ho già detto. Lo posso fare solo con il lavoro nel campo. e lo ripeto un'altra volta, la disponibilità dei ragazzi mi lascia ben sperare. Di questo sono convinto. Un'ultima cosa, la cosa che le è piaciuta di più oggi e la cosa che le è piaciuta meno in questa fotografia di partire? Mi è piaciuto di più il fatto che nel secondo tempo avevo visto delle cose che secondo me non andavano e hanno cercato di farlo nel secondo tempo e infatti siamo stati più padroni del campo nel secondo tempo. solo che sono cose che ho detto che non è che ho fatto e loro le hanno recepite. Questo mi lascia pensare che posso anche cioè anche magari certe cose cioè se recepiscono anche questo cioè non è che sono delle capre cioè questo è importante. Domenico Carella Corriere del Mezzogiorno Salve mister una considerazione ovviamente lei è arrivato nel finale di questo campionato ha già detto di non essere padre Pio nella conferenza stampa di presentazione non è che metto le mani sull'estigmati non ce l'ho ovviamente come dire può incidere relativamente purtroppo per lei in questo finale di campionato però ecco magari non è una squadra costruita da lei non è una squadra che può cambiare così facilmente in corsa però in qualche maniera sembra iniziare a prendere qualcosina oggi per esempio quello che ho notato io poi magari lei mi correggerà è una squadra che ha giocato molto più rispetto al passato in verticale soprattutto sfruttando quelle che possono essere due punti di forza che sono gli esterni di questa squadra si cercava di giocare molto con loro tanto è vero che Costa poi ha fatto due assist e anche con inserimenti dei centrocampisti e sottolino guardando la partita che Frigerio soprattutto in una parte centrale del secondo tempo l'ha cambiata perché è entrato protagonista in tutte le azioni principali dall'espulsione al rigore al gol un'altra azione che adesso l'ho segnata non ricordo insomma l'espulsione si è rotto il naso non è che penso che uno si deve romper il naso perché dobbiamo vincere una partita cioè è capitato cioè è inteso in questo senso cioè nel momento stesso io quando mi ha chiamato ho visto il Foggia e ho visto che secondo me in questo momento non puoi prescindere da questo sistema di gioco per caratteristiche di giocatori anche perché il sistema di gioco si fa in base ai giocatori che è a disposizione per di più cercando visto che la squadra non c'entra niente con la costruzione di trovare un sistema che metta dentro le migliori eccellenze che hai sotto questo punto di vista e secondo me gli esterni sono sono dei buoni giocatori questo sistema di gioco sugli esterni devi sapere devi perforzare la l'ampiezza ce l'hai sugli esterni poi dopo ci sono gli sviluppi le mezzali secondo me hanno delle caratteristiche seppur differenti chi un po' più tecnico chi più di corsa tra cui Frigerio che ha anche inserimento sotto questo punto di vista io sto lavorando su questo è vero che ci sto proponendo qualcosa tenendo conto le caratteristiche di questi giocatori anche perché non posso fare diversamente e soprattutto dargli delle indicazioni abbastanza cioè adesso non posso curare il particolare devo curare il globale per il particolare paradossalmente ci vuole più più tempo sotto questo punto di vista adesso devo devo curare il globale soprattutto proporre qualcosa che sia di semplice attuazione è più facile a dirsi che a farsi ve l'assicuro buonasera mister Giovanni il girante solo foggia hanno fatto tutto domande belle perché hanno parlato della partita tu puoi farmi anche domande brutte no no una dolente nota la vorrei che lei la commentasse cioè quella sull'espulsione di garattoni in pieno recupero poi essendo capitano rosso diretto potrebbe anche rischiare tutte e due le giornate io una cosa che gli dico ai giocatori prima di entrare in campo l'unica cosa che dico iniziamo in 11 finiamo in 11 poi ci sta che uno magari ultimo uomo però l'ho trovata sciocca come espulsione anche perché molto probabilmente avrei voluto fare esordire un ragazzino e l'avevo già fatto scaldare e poi questo è un discorso a catena anche perché non c'entrava niente l'espulsione nell'ambito del gioco non è un doppio fallo una doppia munizione che ci sta nel gioco però penso che gli servirà di insegnamento anche ragazzi penso che il primo che sarà dispiaciuto sarà lui adesso siccome è Pasqua non è che lo dobbiamo crocifiggere onestamente però sicuramente non non va bene anche perché poi in dieci è un'altra partita dal punto di vista tecnico poi c'è stato oggi che stiamo vincendo 3-0 ma molto probabilmente se veniva questa espulsione con un risultato in bilico poteva compromettere anche il finale della partita e questo non deve accadere questo non significa non giocare aggressivo non giocare cercando di arrivare sul pallone però se uno per per un fatto di proteste o un fatto di mancanza di rispetto nei confronti di qualcuno per un fallaccio di reazione onestamente non è non va bene Buonasera Alello Scarano Foggia TV quando si fa per ultimi le domande si rischia di ripetersi però io ci provo tra le cose che sei riuscito a preparare durante la settimana almeno una che ritieni di aver visto attuata sul terreno di gioco oggi se ce n'è una o anche più di una magari ci sono sicuramente il fatto di quello che io voglio dalla mia squadra che a Messina ho visto meno oggi ho visto di più la prima cosa se ha la palla in aria di metterla a terra e cominciare a giocare questa è la prima cosa che ho chiesto alla squadra se abbiamo la possibilità questo non significa che ci sono delle situazioni che ci sarà anche da buttare il pallone ecco ecco però questo non deve essere cioè io non voglio giocare come in serie A stando in serie C io voglio cercare di essere in serie C migliorando il nostro gioco cioè io non non mi dimentico dove sto allenando sotto questo punto di vista però nell'ambito delle nostre possibilità di avere una linea comune e devo dire che i ragazzi sotto questo punto di vista hanno cercato di fare anche perché loro non sanno secondo me come voglio giocare io cioè non lo può darsi che se l'immagino ma non lo sanno e onestamente sarei anche presunturo pensare che dopo sette giorni facciano completamente quello che sto proponendo anche perché ve l'ho detto anche in sede di presentazione il mio mestiere è un mestiere che tu proponi qualcosa poi la partita ti dice se quello che hai proposto cosa è stato fatto meglio cosa è stato fatto peggio dove andare e vai molte volte anche per tentativi per di più sono in una situazione che devo fare presto e bene sono due cose che molte volte collimano e poi c'è il discorso anche dalla condizione fisica perché tutti vorrebbero avere una squadra corta una squadra aggressiva una squadra che si muove in 30 metri poi però dopo subentri e quindi devi cercare di trovare una soluzione che riesca a tenere tutte queste componenti e onestamente non è non è facile grazie a posto grazie posso dire qualcosa di soluzione certo basta che non mi chiedi i soldi te lo dico prima te lo dico prima sono venuto da Giuliano per chiederglielo ah i soldi i soldi da Giuliano devi venire prego allora mister la trovo molto sorridente ben tornato nel calcio professionistico volevo sapere per primo quando le è pesate stare fuori e quanto entusiasmo c'ha a riprendere una panchina in Italia in un anno in cui anche particolare dove sta vincendo una squadra del sud in Serie A e dove ci sono tante squadre del sud in C che danno battaglia la devo leggermente correggere io sto fuori per scelta non è che non ho avuto le opportunità devo dire che ho avuto molte più opportunità all'estero che in Italia sotto questi punti però io sono una persona che mi conosco ma la mia storia lo dice io ho bisogno di stimoli poi io non guardo le categorie e secondo me è una bella sfida il fatto di ritornare dopo 30 anni nella città che mi ha visto bambino e quindi cioè e quindi magari ho declinato anche magari situazioni dove servono state più anche a livello mediatico anche più belle e dal punto di vista economico sicuramente molto più remunerative però io ho bisogno di stimoli infatti lo dice la mia storia sono andata in Bulgaria perché volevo andare a allenare in una realtà diversa ho allenato in piazze che non avrebbe allenato nessuno in situazioni molto particolari quindi non è che a me è mancata la panchina non è che avevo bisogno di trovare una panchina perché la panchina ce l'avevo però è una panchina che mi desse stimoli e la panchina del Foggia secondo me è una bella sfida per me io sono Gregorio Morrone da Giuliano quindi volevo chiedere una considerazione sull'avversario come ha visto questo Giuliano e se c'è qualche individualità nell'avversario che magari le ha un po' rubato l'occhio o l'ha colpito allora devo essere sincero per rispondere alla seconda domanda che ero molto concentrato sulla mia squadra che non sul Giuliano quindi siccome ho due occhi non ci vedo neanche tanto bene faccio fatica a vedere contemporaneamente loro e noi però ho visto una squadra che ha cercato di giocare organizzata sotto questo punto di vista che ci ha creato dei problemi soprattutto nel primo tempo si vede che dietro c'è c'è del lavoro però sui giocatori non mi posso anche perché poi c'è un metro diverso sui giocatori onestamente che c'è un metro che c'è un metro Grazie per la visione!